Ciao, sono Giuseppe Santabarmara, candidato alla RSL di Gallarate, insoluzione pubblica e di Varese. Mi candido come rappresentante della RSL per portare avanti un discorso di tutela dei carichi di lavoro per le organizzazioni e per una serie di tematiche comunque all'interno che le nostre plantiere non sono mai state portate avanti in modo approfondito. Ci sono una serie di problemi che negli anni si sono accumulati e hanno portato all'aggravarsi delle situazioni lavorative.